Buongiorno a tutti, riprendiamo la nostra lezione di letteratura sull'analisi della poesia Consalvo. Prima di ricominciare, siamo al verso 75, ripetiamo un po' quello che abbiamo appena letto nelle pagine precedenti. Abbiamo parlato della storia di Consalvo, di questo ragazzo, poco più che 22enne, che sta per morire. Lui che ha sempre desiderato la morte, adesso a causa di una malattia si trova a morire solo. Sta presso il suo capezzale, soltanto la donna che lui ha sempre amato, ovvero Elvira. La morte lo rende consapevole della sua forza e gli dà anche il coraggio di dichiarare il suo amore per Elvira, chiedendo anche, come estremo gesto di ammirazione ed amore, un bacio dalla donna che lui ha sempre amato. Elvira, non sapendo come negare questo gesto estremo che Consalvo le chiede, sapendo che questo gesto lo rincuorerà, seppur non ricambi il suo sentimento d'amore, così come Fanny Targioni Tozzetti, a cui pare siano ispirate tutte le poesie del ciclo di Aspasia, di cui Consalvo fa parte, decide alla fine di acconsentire nel bacio verso Consalvo e si lascia andare così a questo gesto. Le strofe che seguono sono delle strofe che ci descrivono le conseguenze di questo bacio, come dall'auspicare la morte di Consalvo, al passare a pensare che proprio il giorno a cui lui è concessa finalmente la morte, questo stesso giorno coincide con il giorno più felice della sua vita. Andiamo a leggere. O sogno, o cosa incredibile mi par! Dei quanto Elvira, quanto debbo alla morte! Ascoso innanzi non ti fu l'amor mio per alcun tempo, non a te, non altrui, che non si cela, vero amore, alla terra. Assai palese agli atti, al volto sbigottito, agli occhi ti fu, ma non ai detti. Ancora e sempre muto sarebbe l'infinito affetto che governa il cor mio se non l'avesse fatto ardito il morir. Morro contento del mio destino ormai, né più mi dolgo che aprì le luci al dì. Non vi sindarno, poscia che quella bocca alla mia bocca a premer fu dato, anzi felice stimola sorte mia. Due cose belle ha il mondo, amore e morte. A luna il ciel mi guida in sul fior dell'età, nell'altro assai fortunato mi tengo. Ah, se una volta, solo una volta, il lungo amor quieto e pago avessi tu, fora la terra fatta, quindi per sempre un paradiso ai cangianti occhi miei. Fin la vecchiezza, la borrita vecchiezza avrei sofferto, con riposato cor, che a sostenerla bastato sempre il rimembrar sarebbe d'un solo istante, e il dir felice io fui sovra tutti felici. Ai, ma cotanto esser beato non consente il cielo a natura terrena. Amar tant'oltre non è dato con gioia, e ben per patto in poter del carnefice ai flagelli, alle ruote, alle faci, ito volando sarei dalle tue braccia, e ben disceso nel paventato, sempre eterno, scempio. Bene, andiamo ad analizzare questa parte, che ci descrive le conseguenze del bacio. Che divenisti allora? Cosa sei diventato allora, Consalvo? Cosa vuol dire questo allora, quando Elvira, come detto nella strofa precedente, l'ha baciato? Cosa sei diventato? Cosa hai provato allora? Quali apparirò? Quali sono apparsi? Cosa, questo quali è cosa, come, come ti sono apparsi in quel momento, la vita, la morte, la sventura ai tuoi occhi, fuggitivo, Consalvo. Attenti a questo fuggitivo, che significa morente. Consalvo non sta fuggendo fisicamente, sta fuggendo dalla vita, perché sta per morire. Egli, cioè Consalvo, la mano che ancora teneva della diletta Elvira, spostasi al cor, quindi posatosi sul cuore la mano che teneva nella sua mano di Elvira, ricordatevi che quando le ha chiesto il bacio si è portato la sua bianca mano alla bocca per darle un bacio sulla mano, che posasti sul cuore, sul tuo cuore, che gli ultimi batteva palpiti della morte e dell'amore. Il cuore batte gli ultimi palpiti della morte, proprio perché sono gli ultimi respiri di Consalvo, ma anche dell'amore. Cioè, è interessante vedere come la morte rappresenta in realtà il punto più felice di Consalvo. Quindi il suo cuore batte gli ultimi battiti della vita, ma i primi dell'amore, perché prima non gli era mai stato concesso questo lusso di poter baciare la donna che lui amava. Oh, disse Elvira, Elvira mia, mi trovo ancora sulla terra, non ci può credere di averla baciata. Ebbene, quelle labbra sono state proprio le tue labbra e la tua mano io stringo. Quindi questi versi sono versi di incredibilità, sono ancora vivo, sto sognando, sto tenendo davvero la tua mano. Hai visioni d'estinto, hai visioni ultraterrene, l'estinto è l'ultraterreno. Cioè, dice Consalvo, questa mi sembra una visione ultraterreno. O sogno, o cosa incredibile, mi pare, quello che è appena successo. De quanto Elvira, quanto debbo alla morte, ok? Cosa deve Consalvo alla morte? La sua felicità, ok? E questo il concetto dell'intera poesia. La morte equivale alla felicità. In questo caso, perché coincide con la realizzazione del sogno d'amore. Più in generale, la morte è il principio che annulla tutte le nostre sofferenze, quindi ci porta alla vera e totale felicità. Ascoso, nascosto, innanzi, prima, precedentemente a questo gesto, non ti è mai stato nascosto precedentemente il mio amore in nessun tempo, per alcun tempo. Non è stato nascosto a te, non è stato nascosto a nessun altro. Che, perché, non si cela, non si nasconde il vero amore sulla terra. Quindi, Elvira ha sempre saputo che Consalvo era innamorato di lei, ma tutti lo sapevano. Assai palese, assai evidente, sottointeso è sempre l'amore, negli atti, il mio amore era assai evidente nei miei gesti, nel mio volto sbigottito, negli occhi, fu a te, ma non ai detti. Quindi, tutti i comportamenti di Consalvo facevano trapelare che lui era innamorato di Elvira, ma non nelle parole, i detti, nelle parole. Perché? Perché prima di quel momento Consalvo non si era mai dichiarato. Ancora e sempre, muto sarebbe l'infinito affetto che governa il cuor mio, sarebbe rimasto muto l'infinito affetto che sta dentro al mio cuore, se non l'avesse reso ardito coraggioso il morire. Il mio amore sarebbe rimasto ancora nascosto se non l'avrebbe reso coraggioso nel dichiararsi la morte. Morirò contento del mio destino, ora o mai, ora, né più mi dolgo, né più soffro, per il fatto che ho aperto le luci al D, che ho aperto gli occhi al D, cioè di essere nato. Adesso non mi pento più di essere nato, è valsa la pena nascere. Non vissi in darno, non vissi in vano, poscia che, dopo che, è un'espressione dantesca, quella bocca, la mia bocca, premer fu concesso. Ha cambiato cioè idea rispetto a quel che diceva fino a quel momento. Fino a quel momento, vi ricordo che Consalvo non vedeva l'ora di morire, stanco della vita, delle sofferenze, dice invece in questo momento, non mi pento più di essere nato, perché tutta la vita, tutte le sofferenze, sono valse per vivere questo momento. Anzi, felice e stimo, stimo la mia sorte. Due cose belle al mondo, amore e morte. Attenti a questa espressione, perché Leopardi compone anche una poesia che si intitola Amore e morte, in cui effettivamente l'amore e la morte sono le due facce della stessa medaglia, perché come l'amore può condurre a stati sublimi, ma anche a stati di estrema sofferenza, così è anche la morte. All'una, cioè all'amore, no scusate, all'una, cioè alla morte, all'una, cioè la morte, il cielo mi guida sul fiore dell'età. Nell'altro, cioè all'amore, assai fortunato mi ritengo. Ah, se una volta solo, una volta il lungo amor quieto e pago avessi tu, ah, se soltanto una volta, un tempo, una sola volta, il lungo amor quieto, calmo e appagato avessi tu, fora la terra fatta, attenti a questo fora, sarebbe stata la terra resa, per sempre un paradiso, hai cambiati occhi miei. cioè se tu Elvira avessi concesso questo gesto precedentemente, la vita sarebbe stata per me un paradiso. Fin la vecchiezza, persino la vecchiaia, la borrita, la odiata vecchiaia avrei sofferto, avrei sopportato con riposato cuore, con cuore risoluto, con cuore calmo, che a sostenerla, perché a sostenere la vecchiaia, questo là si riferisce alla vecchiaia, bastato sarebbe sempre stato il rimembrar, il ricordo di che cosa? D'un solo istante, cioè l'istante del bacio. E avrei detto, felice sono stato io sopra tutte le persone felici. Hai purtroppo, qui sottointendiamo un purtroppo, cotanto esser beato, un tale esser felice, una condizione così felice dell'esistenza, non consente il cielo e la natura terrena. Ok? Chi è che non consente la felicità? Il cielo, sempre questa grande incognita sugli dèi, su chi ci sia dopo la morte, quindi il cielo, un'entità, un'intelligenza soprannaturale, e anche la natura terrena, natura matrigna, che non consente agli uomini di essere felice. felici. Amar tanto oltre non è dato con gioia. Amare così profondamente, tanto oltre vuol dire così profondamente, non è dato, non è concesso con gioia dalla natura. E ben per patto, e ben secondo un patto, attenzione a questa frase, volando, me ne sarei andato volando, lontano dalle tue braccia, dove, nelle mani del carnefice, verso flagelli, verso torture, verso le ruote, anche qua le ruote della tortura, le faci, le fiamme, ito sarei, ito sarei, attenti, vi ho già detto che questo ire, è l'infinito del verbo eo, che significa in latino andare, quindi, ito sarei, me ne sarei andato, volando via, dalle tue braccia, dove, nelle mani del carnefice, verso torture, verso flagelli, nelle fiamme, soltanto per vivere questo momento di felicità, e ben sarei disceso, sarei sceso, nel paventato, nello spaventoso, sempiterno scempio, me ne sarei andato all'inferno, pur di poter realizzare questa mia felicità. Continua poi ancora l'esperienza e la descrizione degli effetti del bacio, o Elvira, Elvira, o lui felice, o sovra gli immortali beato, a chi tu schiuda il sorriso d'amor, felice appresso, chi per te sparga con la vita il sangue, lice, lice al mortal, non è già sogno come stimai gran tempo, hai lice in terra a provar felicità, ciò seppi il giorno che fisso io ti mirai, ben per mia morte questo m'accade, e non però quel giorno concerto corgia mai fra tante ambasce, quel fiero giorno biasimar sostenni. Si rivolge nel suo discorso di nuovo a Elvira, o Elvira, o lui felice, come quanto sarà felice colui che sovra gli immortali beato, più felice di tutti gli immortali, colui a cui tu schiuderai il sorriso d'amor, colui che tu amerai sarà la persona più felice tra tutti i mortali, felice sarà, sempre qui sottointeso, sarà, appresso chi, felice sarà appresso, quindi felice sarà dopo quello che tu amerai, chi per te sparga con la vita il sangue, colui che darà la sua vita per te, felice, fortunato, beato quest'uomo che potrà dare la vita per te, attenti a questo lice, già l'abbiamo detto, anche qui è un latinismo da licet, che significa è concesso, è permesso, quindi lice, lice è concesso, è concesso al mortale, non è soltanto un sogno, come stimai gran tempo, come a lungo ho pensato, hai, è lecito, è permesso in terra, provare felicità, felicità, questo seppi, conobbi, il giorno che fisso, fisso, io ti mirai, ti guardai, il giorno in cui io ti ho guardato negli occhi, quel giorno io ho capito che è concesso agli uomini provare felicità, ben per mia morte questo mi accade, tutto ciò è un bene che accade per la mia morte, grazie alla mia morte, ok? quel per vale come grazie alla mia morte mi è concesso capire che all'uomo è permesso provare felicità, e non però quel giorno, concerto cor giammai fra tante ambascia e quel fiero giorno biasimar sostenni, e non però per questo motivo quel giorno in cui la vista, eccolo qua, quel giorno in cui ti mirai, e non per questo motivo il giorno in cui ti mirai, concerto cor, con cuore sicuro, giammai, mai, fra tante ambasce, fra tanti affanni che stavo provando nella mia vita, quel fiero giorno sostenni, posso ora biasimare, cioè non posso ora pentirmi di averti visto per la prima volta, perché ho capito adesso, dice Consalvo, che quel giorno coincide con il giorno in cui ho capito che a noi uomini è concesso provare felicità, or tu vivi beata, il mondo a bella, Elvira mia, col tuo sembiante, alcuno non l'amerà quanti olamai, non nasce un altrettale amor, quanto, d'è quanto, dal misero Consalvo, in sì gran tempo chiamata Fosti, è lamentata, è pianta, come al nome del Vira, incorgelando in pallidir, come tremar sonuso all'amaro calcar della tua soglia, quella voce angelica, all'aspetto di quella fronte, io che al morir non tremo, ma la lena e la vita or vengo meno, agli accenti d'amor, passato è il tempo, né questo di rimemorar me dato, Elvira addio, con la vita alfavilla, la tua diletta immagine si parte dal mio cor finalmente, addio, se grave non ti fur quest'affetto al mio feretro di mani, all'annotar manda un sospiro. In questa penultima strofa, Consalvo si congeda finalmente da Elvira e dopo poco morirà. Or tu vivi beata, quindi tu vivi felice, a questo punto ti auguro di vivere felice, e il mondo a bella, e abbellisci con la tua presenza il mondo, Elvira mia, col tuo sembiante, cioè con la tua, col tuo aspetto, col tuo essere presente nel mondo, rendilo migliore, rendilo più bello. Alcuno, nessuno, non l'amerà quant'io l'amai, nessuno ti amerà mai quanto io ti ho amato, non nascerà mai, non potrà mai nascere un altrettanto amore, un amore altrettanto grande, quanto o quanto dal misero Consalvo, dall'infelice Consalvo, in si gran tempo chiamata Fosti, quanto sei stata chiamata nella mente, naturalmente, in passato da questo Consalvo, e quanto sei stata lamentata, e quanto mi sono lamentato per non poterti dichiarare il mio amore, e quanto pianto per questo amore, quanto, questo come, quanto, al nome del Vira, mentre il cuore mi si congelava nel petto, sono impallidito, quante volte sono impallidito, soltanto a sentirti nominare, come sono solito, sono uso, sono solito tremare, quando ti vedo calcare la soglia della porta, quindi quando ti vedo arrivare, come sono solito tremare, quando sento quella voce angelica, quando vedo quell'aspetto della tua fronte, io, che invece non tremo, e non ho paura di fronte alla morte, io che al morire non tremo, non ho paura, ma l'alena, la forza, la mia forza, e la vita, ora vengono meno, svaniscono di fronte agli accenti, ai gesti d'amore, cioè non posso più dimostrarti, nei gesti, il mio amore, passato il tempo, ormai il tempo è finito, il tempo, qual è questo tempo? D'amare, non mi è più concesso il tempo per amare, per portare avanti questo amore, né questo tempo, di rimemorare, di ricordare che cosa, il bacio, mi è dato, non mi è concesso né il tempo di amare, né il tempo di ricordare questo momento, Elvira addio, con la vital favilla, con la fiamma vitale, con il mio senso di vita, con la mia, come dire, la mia fiamma interiore, che mi tiene in vita, la tua immagine diletta, come possiamo dire, piacevole, la tua piacevole immagine, si parte, si divide, dal mio cuore, attenti a questo finalmente, che significa infine, alla fine, viene meno la mia fiamma vitale, e viene meno anche, la tua immagine dal mio cuore, a Dio, se grave, se pesante, non ti è stato, durante la tua vita, questo affetto, cioè, l'avermi amato, l'amarmi, l'avermi amato, al mio feretro, alla mia tomba, domani, all'annottare, al calare della notte, manda un sospiro, ricordati di me, domani, quando sarò morto, in serata, se non ti è stato, un peso, l'essere, mia amica, e l'avermi amato, l'avermi dato questo bacio, ti prego, manda almeno un sospiro, probabilmente, con salvo, sa che non ci sarà nessuno, al suo funerale, e dice, non venire neanche tu, non è necessario, ma almeno domani, ricordati di me, con un sospiro, è interessante anche, in alcune pagine dello Zibaldone, che però non sono più riuscita a recuperare, se riesco a recuperarle, ve le do, la riflessione che fa Leopardi, a proposito degli addi e dei lutti, e se ci fermiamo un attimo, a riflettere su questo, è sicuramente molto interessante, cioè, avete mai pensato, cos'è di un lutto, ciò che ci rende più tristi? Non certo il fatto, che venga meno una persona, di per sé, no? Immaginate, che ne so, avete un nonno, a cui siete particolarmente affezionati, ma che vedete due volte all'anno, perché abita molto lontano, ok? Quindi voi siete abituati alla sua assenza, e non è dunque di un lutto, il fatto di non avere la presenza, ma dice Leopardi, che il concetto del mai più in eterno, è quello che ci spaventa, cioè il pensare che da quel momento in poi, noi non vedremo mai più per l'eternità quella persona, mai più per l'eternità ci sarà concesso sentire la sua voce, vedere i suoi gesti, confrontarci. In tantissime pagine dello Zibaldone ci parla del concetto del mai più, che è quello che spaventa l'uomo, che lo fa soffrire, e non c'è santo che tenga, anche la persona più religiosa è terrorizzata dal mai più, cioè eternamente noi non potremo più riabbracciare, rivedere quella persona. Questo è quello che ci fa piangere ai funerali, e questo è quello che ci fa soffrire nei nostri lutti. Tacque, ne molto andò che a lui col suono mancò lo spirito, e innanzi sera il primo suo di felice gli fuggia dal guardo. Tacque, finalmente il discorso di Consalvo termina, ne molto tardò, andò, ne molto tardò, che a lui col suono della voce mancò lo spirito, mancò lo spirito vitale, ok? Mancò il fiato. E innanzi sera, e prima della sera del suo primo giorno felice, la prima sera del suo primo giorno felice, gli fuggia dal guardo, cioè fuggiva via dal suo sguardo. Prima che lui potesse veramente godere appieno del suo primo giorno felice in 22 anni della sua vita, quel giorno stesso gli fuggì dallo sguardo, perché morì. Bene, avete visto anche il perché forse alcuni critici ritengono questa poesia un po' patetica, tutte le strofe che seguono al bacio di Elvira sono effettivamente un po' patetiche, però io la trovo una poesia di una potenza straordinaria, perché ci racconta veramente una piccola storiella, e racchiude in sé anche però parecchie delle teorie di Leopardi, a cui mi raccomando aggiungete anche la teoria del mai più in eterno. Come sempre, se ci sono delle domande fatemele, vi aspetto alla prossima lezione, buona serata a tutti.